Se si usa l'aggettivo bionda, in Molise il rimando alla birra è quasi sempre inevitabile. Anche il popolare gruppo social del calcio cavallo ci ha costruito un fortunato video che la scorsa estate ha spopolato sul web. E se all'aeroporto di Cancun il simbolo più evidente è la corona, nei nostri paesi la bottiglia Forst è una vera e propria icona. Il consumo della birra, stando alle ultime statistiche, supera di gran lunga quello del vino in recupero negli ultimi anni. Ma il caro energia si sta per abbattere anche su questo settore. L'allarme lo ha lanciato la Col di Retti, secondo cui i costi della birra sono aumentati negli ultimi mesi proprio a causa degli aumenti di gas e corrente elettrica del 200%. A risentirne sono soprattutto i birrifici artigianali, triplicati in Italia negli ultimi dieci anni, che superano la quota record di 1.085 in realtà nel 2022, che fanno volare le esportazioni del più 12%. Oratino, San Massimo, Ripalimosani, Cantalupo, Cerce Maggiore sono solo alcuni paesi in cui la birra autoprodotta è diventata una realtà. Un successo imprenditoriale che ora potrebbe essere compromesso dai prezzi al consumo che rischiano di schizzare in alto, come per altri prodotti. Oltre all'energia, la Col di Retti segnala un più 45% per gli imballaggi, un più 40% per le bottiglie, mentre le lattine hanno segnato più 10% i tappi, più 22% i fusti di plastica, più 23%. Di questo passo, la passatella nei 100 comuni molisani presto sarà come sciabolare champagne al Tuiga.